Amici sportivi della FCW, la scorsa domenica abbiamo visto FCW Annulation, un grandissimo evento che ha portato nuove stelle, grandissimi match, ma è tutto il momento di passare un po' all'azione qua, nella nuovissima sede di Livorno della FCW, con un match settimanale molto speciale che determinerà la number one contender all'FCW Women's Championship. Amici sportivi, Barbar d'Urso dovrà affrontare la nuovissima arrivata nella Freshmaker Championship Wrestling. Oh, guardate un po' chi c'è, guardate un po' chi c'è, Loredana Bertè, amici sportivi, fa una gara chi ha più plastica, chi è più rifatta, forse non lo so, ma io tifo Loredana Bertè, a me piace, io ho un po' di fetish per Loredana Bertè, mi piace, bella donna, bella donna, anche se è un po' avanti con l'età, vabbè, pazienza. Comunque, il match parlo adesso, number one contender match, si parte amici! Buu, buu, come on, fatela tornare a casa questa qui, a me non piace Barbar d'Urso, l'ho detto più volte, che non sono un grande fan di questa, però d'altronde la FCW si sa che fanno delle scelte un po' discutibili, ok? E niente, dobbiamo sopportare, per fare audience, per fare sharing, una delle donne più false e hypocrite della TV italiana. Però adesso arriva un gioiellino, amici sportivi! Guardiamo un po' l'arrivo di Loredana Bertè, si fa attendere, oh, eccola qua! Io tifo Loredana, amici sportivi, ok? Io tifo Loredana! Guardate qua! Che fa segno degli illuminati, cos'è quella roba? Secondo me questa donna può cambiare le carte in tavola qua in FCW, ok? Perché il titolo di Loredana, a me, il titolo cantonese di Loredana, da un po' che ce l'ha, eh? Anzi, non c'è stato proprio un cambio di titolo con il nuovo anno? E di forse, forse Loredana può portare qualcosa di nuovo. Lo strong style, chi lo sa, bella donna, eh? Molto bella, ok? I capelli blu, a me piacciono un sacco, eh? Guardate com'è vestita, elegantissima, è elegantissima, sì sì. Ah, è pubblico l'ha, adora. Anche io l'adoro, e fa vedere le illuminati, ok. Va bene, va bene così. Dall'angolo Barbados, dall'altro angolo abbiamo l'ordano, Bertram, i gisportivi, il match com'è, mi ricordo che la vingettrice diventerà number one contender, oh my god, attenzione! Che cosa? Per il titolo di campiorezza femminile dell'FCW, affrontare diretta leota, attenzione! C'è il phone in fascia! Irish rip, da parte di Barbara D'Urso, che schiva! Oh, tent on drop, che come affallisce miseramente, intanto con una close line, Bertella a terra! Al centro del ring, un calcione dei denti, forearm, avambraccio! Che cosa? Oh my god! Bertaste of pain, amici sportivi! One, two, three, what? 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 You gotta be kidding me! Loretta, l'ambraccio, what? E dalla energia mi guardano, anche loro non sa la cosa dire! Amici sportivi, l'ambraccio dopo uno squash match! Che è un match più corto della storia dell'FCW, diventa la number one contender all'FCW Women's Championship! Io l'avevo detto, eh! Io l'avevo detto! Si, è inutile che tu mi guardi lì! Si, si, ti vedo, sai tu, regista, che davvero sei! Io l'avevo detto che avrebbe vinto Loredana! Io l'avevo detto! L'avevo detto! Incredibile, amici sportivi! Sono proprio contento, sono felice! Ok! Eh, amici sportivi, niente! Il match finisce qua! Io non so più cosa dire! Ehm, rimanete sintonizzati perché questa settimana vedremo anche Michele Posa contro Giacomo Ciccivaleti, eh! Uno contro uno! E tutto qua! Vabbè! E al prossimo match, amici sportivi!